Grazie a tutti. Grazie. Controllo accessi TVCC. Il caso che oggi andremo a vedere parla di una logistica, un magazzino logistico in provincia di Lodi, dove noi abbiamo realizzato tutti i sistemi antincendio a protezione di questo sito e abbiamo dovuto ovviamente preoccuparci anche della parte antisismica assieme ai nostri partner. Consentitemi di fare una piccola presentazione della nostra azienda. È un'azienda che è da 40 anni sul mercato e ha come filosofia la sicurezza in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo le tre divisioni Fire Protection, di cui io sono il direttore tecnico, la divisione Security e la divisione Service, che garantisce anche la manutenzione e l'assistenza continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di tutti gli impianti di incendio da noi installati. La nostra sede principale si trova a Bergamo, in quel di Madone, e presenti da 40 anni progettiamo su misura le soluzioni customizzate proprio per ogni singolo cliente. Normalmente lavoriamo nelle industrie, ma anche amministrazioni pubbliche, magazzini, alberghi e ogni tipologia di impresa pubblica e privata, che ha bisogno di protezione antincendio e di sicurezza, noi ci siamo. Una breve storia. La Sebino nasce nel 1985 a Bergamo, grazie al fu Marco Cadei. Si sviluppa poi come attività anche in Romania, con due sedi a Timisoare e a Bucarest. Dopodiché nel 2014 l'azienda cresce ed acquisisce la Protector Impianti Antincendio, azienda specializzata nel milanese per le installazioni di impianti antincendio. Poi c'è una joint venture anche con la Sebino Landi per poter, diciamo, espandersi nel mercato dell'est. E nel 2016 un'acquisizione dell'azienda SBS Security consente anche di spaziare nel mondo della sicurezza. In più, nel 2018 ci si trasferisce nella nuova sede prestigiosa a Madone e nel 2020, in piena, diciamo, pandemia, Sebino diventa SPA e si quota in borsa per poter migliorare la nostra, diciamo, presenza su tutti i mercati. Nel 2020, sempre alla fine del 2020, la Sebino SPA acquisisce anche la ex società Riccardi, che diventa Sebino Service SRL, società che opera da 30 anni nell'antincendio come manutenzione. E quindi, diciamo, abbiamo un pool di servizi completi per la nostra clientela. Vedete qui le varie sedi, oltre alla sede principale abbiamo Casale, abbiamo Roma e abbiamo varie assistenze a Napoli, Bari, Potenza e Palermo e a Padova. E poi abbiamo i due siti in Romania che ci consentono di operare sul mercato dell'est. Le tre divisioni, Fire Protection, Security e Service, forniscono un servizio completo e in più abbiamo una sala controllo a Bergamo, che gestisce a distanza tutti gli impianti e tutte le segnalazioni provenienti da tutti gli impianti, in modo che 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il cliente possa avere, diciamo, il controllo di tutto quello che noi abbiamo installato. Questo è, diciamo, un elenco non esaustivo delle nostre referenze e di tutti i clienti che ci hanno dato e continuano a darci la fiducia negli anni. Il caso studio, invece, di cui parleremo oggi è un centro logistico in provincia di Lodi. Questo centro logistico, che si sviluppa su una superficie di 45 mila metri quadri, è un centro logistico costruito dalla società Acno e che contiene, praticamente, merci in deposito. È un centro completamente pieno, quindi, di scaffalature, è un centro logistico, dove sulle scaffalature vengono stoccati grandissimi quantitativi di plastica, legno, carta cartone. E quindi, diciamo, il rischio di incendio, visto l'accumulo di tutte queste materiali, è molto elevato, anche perché l'altezza del fabbricato è di circa 14 metri e l'altezza delle merci è 12 metri dal pavimento. Questo vuol dire che abbiamo un carico di incendio molto notevole e abbiamo la possibilità di incendio rapido e, diciamo, molto potente e quindi dobbiamo per forza adottare il sito di impianti adeguati di spegnimento. L'impianto principale di spegnimento è un impianto sprinkler, quindi una distribuzione di tubazioni di acqua estesi all'intera struttura. E in questo modo noi proteggiamo tutti i punti della struttura con ugelli spaziati circa 9 metri quadri a soffitto. Il sito è protetto anche, ovviamente, dai dranti interni 1,45 e dai dranti esterni 1,70 e da un sistema IRAI, uno sistema di rivelazione fumo e allarme incendio, per poter gestire l'incendio nelle fasi iniziali e poter eventualmente attivare le procedure di evacuazione. Le normative di riferimento alle quali noi ci siamo, diciamo, ci siamo riferiti per poter fare la progettazione e l'installazione di questi impianti sono sostanzialmente le norme americane NFPA, National Fire Protection Association, e le norme UNI o UNI-N che sono vigenti in Italia. Siccome il sito era poi utilizzato da una società che ha come assicurazione un'assicurazione estera, normalmente le assicurazioni estere preferiscono utilizzare normative di tipo NFPA, che sono molto più conosciute da loro, in quanto americane, per poter dimensionare i sistemi antincendio. Questo infatti vale nell'impianto di incendio sprinkler, noi abbiamo utilizzato l'NFPA 13, che è la norma riferita americana per lo sprinkler. Abbiamo poi un'altra norma americana che è l'NFPA 30, perché nel sito sono presenti anche dentro in una cella condizionata degli aerosol, cioè dei gas contenuti, propellenti contenuti nelle bombolette, quindi un rischio specifico ancora maggiore rispetto a quelli che sono i rischi normali della plastica e della carta. Invece, per quanto riguarda gli impianti idranti interni ed esterni, è stata utilizzata la norma UNI, che è la nostra 10779, che è la norma in vigore in Italia, e quindi apprezzata e riconosciuta dai vigili del fuoco, quindi è quella utilizzata normalmente da tutti questi impianti. Le stazioni di pompaggio ovviamente sono divise, perché la rete sprinkler è eseguita secondo normative UNI, secondo normative NFPA è alimentata da una stazione di pompaggio a normative NFPA, a NFPA 20 in particolare, mentre invece la normativa degli idranti ha un'alimentazione idrica fatta con pompe secondo UNI N12845, cioè norme italiane e europee. Questo perché la regolamentazione italiana prevede che quando si sceglie una norma per la progettazione di un impianto, la si debba seguire dall'inizio alla fine, compreso le alimentazioni idriche. Ecco perché le cabine e pompe sono state divise, e sono state divise anche le alimentazioni secondo le normative utilizzate. La parte antisismica, come normativa abbiamo dovuto, siccome l'impianto sprinkler è eseguito secondo normative NFPA, sulla parte antisismica ci siamo dovuti adeguare, diciamo conformare, a quello che prescrivono le normative NFPA, per quanto riguarda la protezione antisismica. Il sito, qui vedete un disegno e una fotografia, è tutto a soffitto, c'è praticamente un impianto sprinkler a soffitto, con tubazioni posizionate e fissate a soffitto, uniformemente distribuite. Gli ugelli sono distribuiti in tutte le aree e tutti gli ugelli sono sprinkler ad apertura automatica, a seguito del raggiungimento della temperatura di taratura, sono distribuiti in modo uniforme e sono avvitati su una rete di tubazioni che noi prefabbrichiamo tutta con linea robotizzata. E poi tutte queste linee di tubazioni vengono mantenute sempre piene di acqua in pressione, che arriva da una sorgente idrica che è il serbatoio con le pompe, e in caso di incendio i fumi caldi, il calore stesso dell'incendio, fa attivare gli sprinkler, uno alla volta a seconda dell'estensione e della rapidità dell'incendio, e l'apertura di uno o più sprinkler determina la partenza automatica delle pompe, e quindi la ridrogazione dell'acqua direttamente e solo sul focolaio dell'incendio. Gli altri sprinkler ovviamente rimangono chiusi. Una cosa molto importante per poter garantire uno spegnimento rapido e di sicura efficacia in uno stabilimento così alto e così con tanta merce alta 12 metri, abbiamo utilizzato un impianto sprinkler particolare che si chiama impianto sprinkler con sprinkler SFR, cioè Early Suppression Fast Response. Sono sprinkler speciali che buttano una quantità d'acqua notevole e soprattutto sono molto veloci nell'apertura, cioè sono molto sensibili alla variazione di calore, alla temperatura che gli arriva sopra e hanno una risposta di intervento rapidissima. Tanto questo permette di avere una rete di sprinkler solo a soffitto e non all'interno delle scaffalature, perché all'interno delle scaffalature andare a mettere degli sprinkler comporterebbe ovviamente una problematica nel layout delle scaffali e soprattutto nella gestione delle merci. Quindi è stato scelto di utilizzare questa tipologia speciale di sprinkler prevista dalla norma NFPA che riesce a spegnere addirittura l'incendio. Tanto per farvi un paragone, la differenza di portata d'acqua tra un ugello sprinkler normale è notevole, perché se noi guardiamo la slide con la formuletta che mi dà dove si può trovare la portata dell'acqua in litri al minuto, la portata dell'acqua si ha per un coefficiente che è moltiplicato per la radice quadrata della pressione di scarica all'ugello. Quindi se noi pensiamo che la maggior parte di sprinkler in commercio hanno un K nell'ordine di 80-115, con pressioni operative fino ad un bar, abbiamo con quella formula circa portate da 60-120 litri al minuto. Con gli SFR invece, lavorando con pressioni molto più altre, da 2,7 a 3,6 o anche a 4 bar, e con K che vanno da 160-360, possiamo erogare da 200-300 a fino a 700-800 litri al minuto, il che significa il doppio di un idrante 1,70. Per chi ha dimestichezza con le pratiche di vigile del fuoco, un idrante 1,70, 300 litri al minuto, è tantissima acqua. Questi buttano il doppio. Quindi dall'alto arriva questa quantità d'acqua che permette un'efficace azione di spegnimento e non solo di controllo di incendio, i tradizionali sistemi control mode, ma addirittura un suppression mode, cioè lo spegnimento dell'incendio in poco tempo. I dati di progetto di questi impianti sono riportati nella nostra, perché il nostro ufficio tecnico, il nostro cuore di progettazione è quello di riuscire a calcolare con precisione le pompe necessarie per portare questa quantità d'acqua agli sprinkler e far sì che le tubazioni siano dimensionate mediante calcoli idraulici computerizzati per poter portare quella pressione e quell'acqua che le normative richiedono in tabella. Su questo sito ci sono circa 6.300 ugelli installati e questi ugelli, l'operatività, normalmente quando si calcola la contemporaneità di intervento degli sprinkler, la normativa ne prevede operativi 12 con una certa pressione di scarica. Quindi i nostri calcoli si basano, le nostre tubazioni sono calcolate in modo da poter portare questa quantità d'acqua di circa 6.500-7.000 litri al minuto per poter essere erogata dai 12 sprinkler che sono entrati in funzione. Ovviamente le alimentazioni idriche di questi impianti sono in questo caso divise, perché sono state fatte due cabine rindondanti, una con due motopompe sprinkler e una con due motopompe idranti. Le motopompe idranti sono, abbiamo detto prima, unienne e hanno portate nell'ordine di 1.200-1.300 litri al minuto perché è la normativa nostra che prevede la contemporaneità di apertura degli idranti diciamo in caso di emergenza. Mentre invece, per quanto riguarda le pompe sprinkler, sono due, una riserva all'altra e ognuna delle quali può portare 7.500 litri di acqua, circa a 10 atmosfere. Quindi sono pompe molto grosse che possono portare a notevole quantità d'acqua proprio per garantire lo spegnimento. La partenza delle pompe è automatica e una volta che gli sprinkler sono intervenuti a causa del calore non si possono ripristinare, vanno sostituiti e quindi l'impianto va chiuso manualmente, intercettato manualmente nelle varie sezioni e poi va spenta manualmente la pompa perché non è previsto l'arresto automatico e poi va ripristinato con un intervento di sostituzione degli ugelli entrati in funzione. Per quanto riguarda la supportazione sismica, noi ovviamente, mentre tutti i calcoli vengono da noi elaborati per poter avere un impianto sprinkler efficiente in termini di portate e di pressioni, per quanto riguarda la supportazione sismica, dobbiamo riferirci alle norme di riferimento e soprattutto dobbiamo avere dei partner specializzati in grado di effettuare i calcoli di verifica di tutti questi sostegni. secondo la NTC 2018, quindi le norme tecniche delle costruzioni, noi siamo obbligati a fare queste verifiche sulla supportazione sismica e quindi, essendo obbligato, dobbiamo poi definire quale norma utilizzare per andare ad avere i parametri di posizionamento dei sostegnanti sismici e i parametri di calcolo per le azioni sismiche. Le norme che possiamo utilizzare sono sia UNI oppure NFPA o FM che è un altro ente americano assicurativo. Ora, in questo caso, siccome l'impianto sprinkler è stato calcolato ed è stato installato con normative NFPA, noi siamo andati a verificare le staffe antisismiche secondo i parametri dell'NFPA. Però, dato che siamo in Italia e dobbiamo rispettare l'NTC 2018, dobbiamo anche verificare che i parametri e le sollecitazioni sismiche che vengono fuori, i risultati che vengono fuori dal calcolo con l'NFPA sia uguale o minore di quello che può venire fuori con la UNI. Perché noi dobbiamo rispettare l'NTC 2018 quindi dobbiamo fare qualcosa che sia almeno uguale alle UNI ma rispettando anche in questo caso l'NFPA. C'è da dire che l'NFPA prevede oltre che l'indicazione di supposizionamento delle staffe come peraltro la UNI, prevede anche l'utilizzo di elementi listati. Quindi noi dobbiamo trovare anche dei fornitori che siano in grado di fornirci degli elementi strutturali calcolati ma anche listati. Cioè devono avere un'approvazione da parte di un ente che potrebbe essere la Fattori Mutual o la FIDOS o altri enti che possano dare delle certificazioni di prodotto per l'applicazione specifica che è l'impianto di un incendio sprinkler. Oltretutto la prima cosa che dobbiamo fare è calcolare gli elementi statici quindi dobbiamo prima calcolare i sostegni statici e questo ci viene in aiuto la normativa NFPA perché ci sono delle tabelle che mi dicono che io devo calcolare i sostegni statici cioè l'impianto deve essere sostenuto calcolando diciamo il peso del tubo pieno d'acqua più moltiplicato per 5 volte più 115 kg di sovraccarico. Questo ci costringe a elaborare diciamo dei sostegni che siano adeguatamente dimensionati secondo le tabelle e anche l'interesse tra i supporti e il posizionamento è tutto tabellato quindi io mi riferisco alla norma e nella nostra progettazione dobbiamo essere sicuri di poter arrivare diciamo a rispettare quelli che sono i parametri della norma. Poi c'è bisogna determinare ovviamente tutti questi calcoli poi li eseguiranno i nostri partner ma noi dobbiamo essere tranquilli e quindi dobbiamo saperli anche controllare e verificare che siano nei canoni normativi. Quello che dobbiamo calcolare per calcolare invece i controventi sismici dobbiamo andare a calcolarlo con un'azione sismica e le azioni sismiche sono diverse in base secondo se utilizzo l'Uni oppure se utilizzo l'NFPA in questo caso siccome dobbiamo utilizzare l'NFPA noi dobbiamo essere sicuri che però l'azione sismica calcolata con l'NFPA non sia superiore a quella calcolata con l'Uni allora per l'Uni ovviamente l'azione sismica si riferisce all'Eurocodice per invece l'azione sismica NFPA si riferisce all'Ace 7 che è la normativa americana in questo caso noi cosa andiamo a fare le formule ecco volevo farvi vedere prima le formule sono diverse se vado in un caso o nell'altro ovviamente i parametri e i coefficienti sono diversi se parlo di NFPA o se parlo di Uni e qui avete dentro le formule con un po' di parametriazione da poter guardare tra l'altro cosa molto importante i parametri per determinare l'azione sismica sull'NFPA si basano sullo spettro di risposta all'azione sismica del luogo e del sito dove noi andiamo a operare perché voi sapete che a seconda di dove mi sposto avrò un'azione sismica diversa e quindi è diverso un posto a Napoli piuttosto che un posto a Milano e quindi basandomi sulle curve diciamo di sismiche io devo andarmi a calcolare lo spettro di risposta che mi serve da inserire nei coefficienti della norma nel caso della norma italiana lo spettro di risposta è preso a 0 secondi mentre invece nell'NFPA si prescrive di prenderlo a 0 e 2 secondi perché le loro formule sono tarate su questa particolare diciamo risposta noi dobbiamo essere tranquilli e sicuri che lo spettro di risposta sia preso a 0 e 2 secondi perché altrimenti la formula dell'NFPA non sarebbe più valida e questo è molto importante da tenere presente quando ci sono poi da controllare i calcoli che arrivano dalla parte diciamo antisismica l'altra cosa importante è devo mettere dei controventi trasversali la norma mi dice che i collettori devono essere controventati e l'interasse fra i controventi minimo deve essere di 12 metri quindi io la prima cosa che faccio gli piazzo i controventi trasversali ogni 12 metri e poi li vado a verificare con la formula che abbiamo visto prima le diramazioni cosa vuol dire le diramazioni cioè le linee che portano gli ugelli sprinkler devono essere controventate solo se sono maggiori di 2 pollici se sono inferiori ai 2 pollici non è necessario controventare purché ci siano degli elementi dei vincoli opportuni per quanto riguarda i controventi longitudinali anche qui l'interasse deve essere di 24 metri e non è previsto metterli sulle diramazioni non è previsto metterli sulle diramazioni anche perché quando io calcolo e l'abbiamo visto prima il trasversale il trasversale va calcolato prendendo una area di influenza che comprende la parte di collettore fra un sostegno e l'altro ma tra quella parte di collettore comprende anche le linee cioè le diramazioni che sono sottese e che possono diciamo muoversi assieme a quel collettore quindi io devo con quest'area di influenza cercare di devo calcolare assolutamente quello che succede su tutta quella area di influenza e che va poi a gravare sui sostegni antisismici che vado a calcolare tanto per farvi un'idea voi vedete qui una diramazione vedete un piccolo asonometrico con il collettore principale da 6 pollici di N150 poi avete il collettore secondario da 4 pollici di N100 e le linee di diramazioni le distribuzioni delle linee da 2 pollici e mezzo io cosa devo fare ovviamente la prima cosa devo calcolare i sostegni statici e lì vedete due esempi il sostegno statico è quello appeso alla struttura sia per le linee per le diramazioni e sia per i collettori quindi lì si fa un calcolo della staffa che estenga su quei famosi peso del tubo più moltiplicato 5 volte più 115 kg di sovraccarico e questo è abbastanza semplice diventa più complicato quando devo andarmi a fare invece la verifica dell'azione sismica sui controventi e qui vedete che sono state utilizzate entrambi le formule cioè la prima è la formula della Uni la seconda è la formula dell'NFPA e guardate i coefficienti che ne derivano sono 0,23 per la Uni e 0,24 per la NFPA subito abbiamo capito che l'NFPA in questo caso addirittura è leggermente più restrittiva perché ha un coefficiente più alto e quindi possiamo tranquillamente utilizzarla dichiarando anche ottemperata la normativa NTC 2018 perché il coefficiente è addirittura superiore ovviamente questi coefficienti si trovano con delle formule avendo tanti dati di input che sono quelli che sono richiesti per poter inserire nelle formule vedete qui per esempio il concetto dell'area di influenza c'è sempre l'area di influenza che è pari e qui ci sono i calcoli se il collettore io devo mettere il sostegno ogni 12 metri devo fare 12 metri di collettore pieno d'acqua più devo mettere dentro anche metà delle linee che sono lunghe 100 e rotti metri quindi cosa succede perché metà perché l'altra metà è grava sull'altro controvento del controcollettore quindi io prendo nella zona di influenza la mia parte di collettore che devo calcolare e metà delle linee di distribuzione faccio il calcolo e mi ritrovo che mi vengono le forze applicate su questi sostegni che dovrò adeguatamente dimensionare sia i trasversali che i longitudinali oltretutto dopo aver fatto la prima verifica che è questa del dimensionamento del sostegno una volta dimensionato il sostegno devo anche andare a verificare al sollevamento il sostegno che non deve assolutamente sollevarsi e quindi devo verificare anche con la formula apposita che il sostegno verso l'alto non ci possa andare l'altra cosa che devo verificare è la snellezza quando io diciamo posiziono i controventi a 45 gradi o a 30 gradi almeno devo verificare che nelle diramazioni ho una snellezza lambda 400 nei controventi dei collettori 200 e devo verificare che questa barra che mi diciamo che mi tiene su il sostegno non fletta e quindi io devo assolutamente verificare con le posite formule che i sostegni una volta dimensionati siano anche in grado di resistere alla diciamo all'eventuale flessione questo ovviamente al fine di riuscire a far sì che l'impianto anche sottoposto ad azioni sismiche non possa subire dei danni e possa sempre essere in grado di erogare l'acqua là dove mi serve questa è la cosa più importante di tutto per diciamo come si dice per poi siccome siamo in ambito NFPA per poter utilizzare tutti i componenti che mi servono per l'antisismicità io devo utilizzare componenti approvati e quindi devo andare sul mercato a trovare anche dei sostegni e dei componenti dei sostegni e degli accessori che siano tutti con certificazione o FM o VDS tedesca per impiego in zona sismica per esempio i tasselli devono essere adeguati per la zona sismica i controventi e le staffe e i collari devono essere listati per le zone sismiche e soprattutto se ho degli elementi dei compensatori perché ho l'elemento di separazione strutturale del fabbricato lì il tubo si deve fermare bisogna inserire un compensatore sismico che anche quello deve essere approvato per garantire la possibilità di dare la possibilità al tubo di muoversi fino a un certo limite e poter essere sostenuto sia dagli sostegni statici e anche dai sostegni antisismici tutto questo ovviamente lo si fa per l'aumento della sicurezza e per poter garantire un impianto che possa funzionare in ogni condizione di utilizzo sempre e comunque questo perché la nostra filosofia aziendale prevede esattamente esattamente questo con questo direi che avrei concluso la mia presentazione ringrazio di nuovo tutti i partecipanti a questo convegno e ILTI che ci ha dato la possibilità di essere presenti e per qualsiasi cosa vi ringrazio per l'attenzione e rimango a vostra disposizione per qualsiasi eventuale dubbio domanda o progettazione grazie ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti